Ciao ragazzi, per tenerti su Merlin, io sono Giuliano, questa è la tavola rotonda. Oggi voglio parlarvi di un gioco molto particolare, un gioco che è uscito questo mese, un gioco che parla di horror, horror lovecraftiano, un gioco che è arrivato in Italia grazie a MS Edizioni. Tuluac! Tuluac, oggi voglio parlarvi di questo. Prima di farlo, però ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, ad accendere la campanella e a mettere like a questo video sulla fiducia. Perché? Perché so io, perché è Tuluac, MS Edizioni e perché so una garanzia, fondamentalmente. Allora, MS Edizioni mi ha mandato questo volumetto poco prima dell'uscita. L'ho letteralmente divorato, anche perché so, 80 pagine, regali, non è che voi potete inventare. 80 pagine e leggere in due giorni, è semplice. Ma vabbè, a parte questo, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Allora, facciamo le cose con ordine. Sapete che Merlin funziona con com'è, dove è ambientato e che ci sta dentro, come si gioca, ok? Questa è la dinamica di Merlin. Allora, farò inevitabilmente dei parallelismi con la versione inglese. Mi perdonerete, però, raga, qui si sta a parlare di due livelli completamente diversi, dei due giochi che il solo contenuto può essere confrontato. Perché tutto il resto non c'è storia. Allora, si presenta come un cartonato, bello solido, bello resistente, proprio gonfio. Raga, ve lo dico senza mezzi termini. È davvero un piacere poterlo toccare, leggere e guardare. La copertina è un bellissimo rigido. È una similpelle, cioè ha questa trama a forma di... che richiama il concetto di pelle. Pelle scura, pelle nera. Sopra ha questo disegno stampato, non pressato. Ma l'effetto complessivo è davvero molto interessante. Si ha davvero l'impressione che il disegno sia pressato sopra. con questi inserti dorati lo rende davvero un prodotto premium, almeno sulla sua parte estetica. L'interno? L'interno è premium tanto quanto. Sì, perché rispetto alla versione inglese, anzi, ve lo dirò più avanti, quali sono i parallelismi. L'interno di questa versione è pergaminato. Tutte le pagine sono belle pesanti, hanno questo color caffè molto chiaro che rendono e semplificano la lettura. Non la appesantiscono, non vi dà fastidio, non riflette la luce del sole, anche perché se lo leggete al giorno, non c'è senso. Leggetelo all'alba, leggetelo a notte, perché è davvero suggestivo sotto questo punto di vista. Per il resto, il contenuto è una monocolonna. Il suo formato, ragazzi, è circa un A5. In realtà è un po' più stretto di un A5, è un po' più alto, però grossomodo è come un A5. Quindi è facile da mettere in tasca. Dicevo del contenuto, tutto il testo è stato rivisto, corretto e aggiustato, oltre che essere stato semplificato e meglio esposto. Ora, che significa? Significa che la versione originale non era molto chiara in alcuni passaggi. Qui l'hanno semplificato, l'hanno aggiustato e l'hanno reso più fruibile a chiunque. Per il resto, ragazzi, qui hanno rifatto ex novo praticamente tutto quanto, dalla grafica all'estetica, all'impaginazione. Letteralmente hanno risistemato tutto. Anche le tabelle, anche il modo di presentare il testo, anche il font, è tutto diverso rispetto a qualunque altra versione voi abbiate mai visto di Cthulhuac. Ci dovrebbero essere anche altre due lingue oltre l'inglese e l'italiano, ma non vorrei sindacare o dire delle fesserie. Com'è l'ambientazione? È Lovecraft. Ragazzi, Lovecraft lo conoscete tutti. Cthulhu. Cioè, voglio dire, ermito di Cthulhu lo conoscono tutti. Se non lo conoscete, ragazzi, mi dispiace per voi. Non vi posso fare cent'anni di storia di Lovecraft soltanto perché voi non lo conoscete. Cercherò di farlo ad ampio respiro il più velocemente possibile perché non c'è senso. Allora, Lovecraft è, in questo contesto di Cthulhuac, voi siete degli investigatori dell'occulto. Vi è successo qualcosa di strano, di strambo, di strampalato che semplicemente ha attivato i vostri recettori della curiosità. Ha deciso il mondo che fosse giunta la vostra ora perché questo deve succedere e succederà e quindi vi siete infognati fisicamente nella ricerca spasmodica della risoluzione di un caso. Un caso qualunque. Vuoi che avete visto un mostro dietro l'angolo? Vuoi che un efferato omicidio abbia fatto scalpore per le modalità o per gli strani indizi che sono stati rinvenuti o per il fatto che in qualche modo la vittima era legata a voi per qualunque motivo, voi indagherete su un caso. Questo vi porterà in una normale e aspicabile discesa verso l'insanità mentale, verso la follia più totale. Ecco, questo è fondamentalmente quello che troverete all'interno di questo manuale oltre al fatto che c'è, rispetto anche alla versione originale un'avventura, l'avventura Salvare Innsmount e devo dire che l'ho trovata estremamente interessante. Per il resto tutta l'ambientazione qui, ragazzi più leggete Cthulhu, più manuali leggete da richiamo di Cthulhu che vi lascio magari il link qui in descrizione a quello che volete, ragazzi letteralmente c'è dovunque, qualunque cosa possibile, immaginabile. Il sistema Ora, per essere un manualetto di 80 pagine che sistema ci può essere dentro un sistema di questa dimensione? Un sistema snello, veloce con una curva di apprendimento che è rasente lo zero fate i personaggi letteralmente in 3 minuti e ve lo dico letteralmente in 3 minuti perché alla fine dovete scegliere due cose che tipo di personaggio siete impostare due numeri scarsi metteci due dati qui e lì e siete a posto perché ho detto così mettere i dati? perché Cthulhuac utilizza tutta la serie dei dati tutta la scala dal D4 al D20 lo fa in modo molto semplice il D20 è quel dato che si utilizza soprattutto nei tiri salvezza in tutti quei tiri in cui la vostra area fisica e mentale viene messa a dura prova da ciò che vi è intorno da ciò che vi sta attaccando fondamentalmente o da ciò che state attaccando se quindi il vostro personaggio anzi il vostro giocatore tirando il D20 ottiene un risultato minore del valore di abilità che ha sulla propria scheda allora ha avuto successo e di conseguenza ferisce il proprio avversario dall'altra parte se ottenete un valore superiore o pari al vostro valore di abilità il vostro è un insuccesso ora il valore del concetto di insuccesso e successo in Tuluac è molto molto particolare ve lo spiegherò fra poco vi posso spiegare però che a un certo punto il vostro personaggio potrebbe perdere punti ferita a suon dei pugni a suon dei botte a suon dei cadere a suon dei n.000 cose al punto che si troverà fuori dal combattimento si troverà fuori dalla scena questo non implica che è schiattato morto male eccetera eccetera semplicemente è fuori da quel contesto di gioco potrebbe tornare più avanti potrebbe non tornare affatto questa descrizione anche del giocatore del narratore vi potete mettere d'accordo tranquillamente però diciamo che in Tuluac la morte è un concetto molto molto particolare allora oltre i tiri salvezza che farete sempre contro delle minacce ovvero contro degli oggetti o delle persone o delle cose creature e così via ci sono anche i tiri risorsa i tiri risorsa funzionano un po' come i tiri salvezza con l'unica accortezza che anziché tirare il D20 tirerete il dato relativo a quella specifica risorsa che avete impostato sul vostro che avete impostato sul vostro sulla vostra scheda questo questo dato semplicemente fa sempre successo tranne in un caso anzi in due casi uno o due se il risultato quindi di quel lancio di dato è uno o due quella risorsa scala non necessariamente avete fallito anzi avete utilizzato attivamente quella risorsa ma semplicemente l'avete consumata di fatto gran parte delle situazioni in Tuluac sono dei consumabili sono delle situazioni che consumano e la vostra energia fisica e la vostra energia mentale che non hanno fisicamente un numero attivo semplicemente sono definiti da queste risorse dall'insieme delle risorse ora per farvi degli esempi pratici immaginate che voi state facendo un'indagine su un certo luogo volete scoprire se c'è attivamente qualcosa che può esservi utile per la vostra indagine il narratore semplicemente vi chiede un tiro proprio su indagine voi prenderete il dato relativo supponiamo un D8 ok una cifra piuttosto normale lanciandolo se il mio risultato fosse 3 o più perfetto ho trovato il mio indizio ho trovato ciò che cercavo l'ho trovato più o meno bene ma sono riuscito a trovarlo quindi ottengo qualcosa dal master o dalla situazione al contrario se avessi ottenuto un 1 o un 2 sarebbe accaduta la stessa cosa avrei comunque ottenuto il mio risultato positivo ma le risorse sarebbero calate di un grado ovvero sarei passato dal D8 al D6 la volta successiva se dovessi comunque continuare ad utilizzare indagini senza aver potuto recuperare quella specifica risorsa ecco qui che lancierei il D6 alla stessa maniera come prima 3 o più ottengo un risultato positivo con 1 o 2 ottengo comunque un risultato positivo ma il dato continua a scalare diventerebbe un 1 diventerebbe un D4 in questo contesto alla stessa maniera così a scendere fino a che il D4 che è l'ultimo dato poveraccio che è più facile ottenere un 1 e un 2 vi fa completare e chiudere il ciclo della risorsa a quel punto il vostro personaggio esce fuori scena e deve necessariamente recuperare forza in quella specifica area ecco questa meccanica si applica a qualunque cosa all'uso delle pallottole alle indagini alle ricerche scientifiche a qualunque letteralmente qualunque cosa a ricordarsi qualcosa all'interno di una biblioteca a cercarla e così via ecco questa meccanica la potete utilizzare ovunque e dovunque ed è estremamente facile da ricordare semplicemente dovete scrivere il tipo di dato che c'è e utilizzarla esistono in Tuluac anche vantaggi e svantaggi che semplicemente vi permettono di aggiungere dati dello stesso tipo e quindi scegliere il migliore o il peggiore in funzione di quello che succede il manuale vi dice che lo sceglierà il narratore se siete in svantaggio o se o è il giocatore se siete in vantaggio in realtà è facile ragazzi decide il più alto lo prendete sempre il più basso lo prendete sempre in funzione se siete in vantaggio o svantaggio non vedete sta inventare ah no questo lo scelgo io questo no non c'è senso per il resto altre dinamiche ragazzi particolari non ce ne sono anche la sanità tanto per dire un altro elemento che trovate in quasi qualunque altro gioco legato a Tulu sfrutta la stessa dinamica avete dei dati avete un punteggio lanciate su sanità se avete avuto il risultato positivo a posto altrimenti continuate a scalare ecco questa bella dinamica vi permette di scendere rapidamente verso l'inferno ora che ne penso di sto gioco e perché mi piace molto di più della sua controparte inglese allora la sua controparte inglese per quanto bella per quanto interessante ma soprattutto semplice perché sono tipo 40 pagine 35 50 una cosa del genere una cifra piccolissima rispetto a questa si legge veramente in mezza giornata siete a posto con giorno avete letto tutto e potete già giocare la semplicità del gioco di Cthulhuac sta proprio lì la bellezza del gioco sta proprio lì il problema di quella versione è che è davvero molto semplice non c'è niente è bianca c'è la pagina so bianca c'è il testo nero ci stanno due immagini in croce proprio sparpagliate qui e lì non ci stanno riferimenti e da belle sono prese pare pare da word esteticamente non è un bel lavoro personalmente ovviamente non lo reputo quel tipo di manuale che mi piacerebbe avere fisico magari digitale sì perché sarebbe bello poter avere quel manuale in formato digitale perché si sfoglia veloce non richiede chissà quante risorse e così via per il resto non c'è niente esteticamente e sulla parte fisica rispetto a questo anzi sta 12 spanne sotto questo è tutt'altro lavoro è proprio si sente proprio e si vede che è un prodotto premium dall'altra parte però la versione inglese ha il pdf e oggettivamente costa poco costa poco quindi se siete dei anglofoni o comunque leggete velocemente l'inglese probabilmente quella è una versione che vi può far gola anche se detto a tutta sincerità raga c'avete la versione in italiano io quella non avrei manco per niente io la comprai all'epoca perché semplicemente non avevo idea che potesse un gioco del genere arrivare in Italia oggi invece stanno arrivando veramente sta arrivando di tutto e di più e quindi poter sfruttare quel tipo di gioco o comunque averci l'italiano è utile questo costa 19 euro e 90 forse troppo per alcune tasche forse poco per altre ma per il tipo di prodotto che vi vale assolutamente tutti la cosa che mi fa storcere parecchio il naso è l'assenza del pdf raga nel 2021 io non avere il pdf per me è una cosa fuori dalla grazia di Dio non riesco a capire perché non ci posso avere pdf di un manuale come questo mi si può dire veramente qualunque cosa il pdf lo potete distribuire lo potete da chiunque io stesso magari cerco di aiutare i ragazzi quando ho il pdf su determinati giochi lo faccio normalmente perché siamo in associazione so quali sono i miei ragazzi con cui riesco a giocare tranquillamente e condividere il manuale di carta o condividere il manuale pdf non cambia niente personalmente i ragazzi sono tutti parsimoniosi fanno tutti attenzione a ciò che fanno e di conseguenza io sto sempre tranquillo la cosa che mi infastidisce è proprio che non c'è qui il pdf 80 pagine le ho dovute è vero che te lo porti dietro anche perché è bello oggettivamente però mi piace poter leggere sull'iPad io me lo porto sempre ovunque per me è un'estensione di me stesso non dovermi incollare 30 manuali diversi per me è una mano santa è un miracolo del signore perché perché voglio leggere cthulhu voglio leggere broken compass voglio leggere peppa pig leggo peppa pig cioè la bellezza è che posso portarmi dietro migliaia di euro di pdf e poterli leggere sempre per il resto ragazzi il mio giudizio su cthulhuac è che è un gioco veloce è un gioco che adattate rapidamente alla vostra serata di gioco è un gioco che se vi manca il giocatore x lo potete intavolare senza mezzi termini è un gioco che se non avete idea che cosa gioca questa sera potete mettere al tavolo senza mezzi termini alla fine la scheda è una fregnaccia atomica sono veramente 4 valori in croce proprio letterali e qui posso spezzare una lancia proprio a favore di questa scheda che è strepitosa rispetto alla sua controparte alla sua controparte digitale inglese per il resto ragazzi io che vedevo di non non c'è molto altro qui alla fine dei conti è tutto semplificato è tutto veloce è tutto automaticamente una mano santa perché perché il tempo di apprendimento è niente detto questo vi invito di nuovo a iscrivervi al canale ad accendere la campanella a mettere like al video a tutta quella serie di fregnacce tipiche dei video youtube scrivetevi su seguiteci sui nostri social scrivetevi a tutti i nostri social perché è lì che pubblichiamo tutte le nostre attività tutto quello che facciamo i nostri social tendono ad avere e a ricondividere tutte le nostre attività che sia mia di Elisa di Alice o di Giulia o di Daniele o di chiunque altro in associazione le ricondividiamo per darvi modo di vedere che cosa stiamo facendo e che cosa faremo detto questo io spero di vedervi presto a Innsmount ciao